Sanità in affanno nell'Ametino, 118 senza medico in città anche nel giorno di festa patronale. Un altro ed ennesimo giorno di emergenza per il servizio del 118 in tutto il comprensorio dell'Ametino, con postazioni chiuse per assenza di operatori. Oggi, dalle 8 alle 14, la postazione di emergenza territoriale di Falerna è chiusa per mancanza di medico, infermiere ed autista, denuncia Saverio Ferrari, delegato provinciale SMI, ed è invece aperta nel turno dalle 14 alle 20, ma sarà senza medico. E l'assenza di personale medico specializzato resta un problema centrale in città, dove è in servizio una sola ambulanza e stasera, nonostante sia un giorno di festa patronale, con aumento di afflusso di persone nel centro della città, il servizio di 118 è demedicalizzato, nel turno che inizia oggi alle 20 e finisce domattina alle 8. L'augurio è che non accada nulla, ma non possono notare un'assenza totale di attenzione da parte di tutte le istituzioni, da quelle sanitarie fino all'amministrazione comunale, aggiunge Ferrari, e postazione senza medico anche a Soveria Mannelli, dalle 8 di oggi fino alle 8 di domani.